La Corte europea di giustizia condanna l'Italia per la gestione dei rifiuti in campagna nel 2007, quando non era in carica l'attuale governo. Le sanzioni potrebbero essere molto alte. Alessio Zucchini. L'Italia non ha creato una rete adeguata di impianti di recupero e smaltimento dei rifiuti nelle vicinanze dei luoghi di produzione. La Corte di giustizia del Lussemburgo ha accolto il ricorso della Commissione europea. In campagna, e scritto nel provvedimento, non sono state adottate tutte le misure necessarie per tutelare la salute della popolazione e l'ambiente. L'avvio della procedura di infrazione risale al 2008. La Commissione europea aveva proposto alla Corte di giustizia un ricorso per inadempimento contro l'Italia. Bruxelles aveva anche congelato 500 milioni di euro di fondi comunitari destinati alla campagna. Alla Corte di giustizia non sono bastate le giustificazioni dell'Italia. Italia che aveva affermato di aver aumentato il livello di raccolta differenziata, di aver aperto due discariche e costruito inceneritori. I fatti contestati si riferiscono al 2007, periodo precedente alla nomina di Guido Bertolaso a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. Ora per l'Italia si profila una sanzione pecuniaria, ancora da stabilire l'importo della multa. E la sentenza dell'Unione Europea è l'ennesima riprova del lavoro certosino ed eccellente che ha fatto il governo Berlusconi risolvendo in pochi mesi, nel 2008, un'emergenza che si trascinava da anni. Questa sentenza è allo stesso tempo l'emblema del fallimento della classe dirigente del centro-sinistra. Questo è il commento del ministro per l'attuazione del programma Gianfranco Rotondi. E la Corte Europea di Giustizia condanna l'Italia per la gestione dei rifiuti in campagna nel 2007, quando non era in carica l'attuale governo. I fatti contestati si riferiscono al 2007, periodo precedente alla nomina di Guido Bertolaso a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. I fatti contestati si riferiscono al 2007, periodo precedente alla nomina di Guido Bertolaso a commissario straordinario per l'emergenza rifiuti. Ora per l'Italia si profila una sanzione pecuniaria, ancora da stabilire l'importo della multa. I fatti contestati si riferiscono al 2007, periodo precedente alla nomina di Guido Bertolaso a commissario straordinario per l'attuale governo.